Brito a Tua B B B E Oh, I'm coming back with that. Oh! Oh, Gash! Sì, I'm out of bed! Grazie a Davide, dai! ... ... ... ... ... 13 in grado e allora ciao Luca sei un antagonista ti vogliono bene mi hanno detto che il passito colpo verrà incondice spero di no prima si parlava prima si parlava sono